Ok, a proposito sempre del naso, vediamo anche il tiro frontale. L'abbiamo visto laterale il tiro, vediamolo anche in modo frontale come riusciamo a non prenderci. Questo è quello che faccio io. Diciamo stringhe 18 metri, estensione della spalla dell'arco. Vedete anche senza dragona come forzolante si rilascia, ma soprattutto il rilascio della mano. Lo rivediamo. Ecco fatto, allineamenti e addestratevi ad avere un buon rilascio. Un rilascio che scivoli sul vivo senza troppe estensioni e basta che scivoli e sede sul vivo, non si deve distaccare. Grazie.